a seguire finale per il duo femminile adulti diciannove trentaquattro B tenetevi gentilmente pronte e in pista abbiamo con il numero ventotto Federica e Giorgia che ci presentano Sisters Chains posizione musica a 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 grazie come sempre a queste atlete e andiamo a concludere questo primo turno